come sarebbe e soprattutto dove arriverebbe in Italia ed in Europa un Inter composta solo e soltanto da calciatori italiani amiche amici interisti amiche amici di Passione Inter ben ritrovati in questo nuovo episodio in cui abbiamo deciso di fare un gioco vi riproponiamo anzi un gioco che avevamo già fatto diversi mesi fa vi era molto piaciuto lo avete apprezzato tanto e allora ve lo riproponiamo oggi visto che ce lo avete chiesto in una veste aggiornata per farci insieme quattro chiacchiere qualche eh considerazione anche in chiave calcio mercato e per lanciare anche un po' una sorta di provocazione perché ricordiamo benissimo ai tempi in cui l'Inter stravinceva con tanti calciatori stranieri come sui giornali gli opinionisti e anche altri dirigenti altri club protestavano si lamentavano del fatto che l'Inter avesse in campo troppi calciatori stranieri e non valorizzasse i giocatori italiani adesso l'Inter ha avviato un nuovo corso in cui sta eh portando a casa tanti tanti calciatori che poi contribuiscono anche ai successi della nazionale azzurra e il tema degli stranieri e quant'altro è passato un po' in secondo piano e allora noi vi riproponiamo questo gioco mettetevi comodi mi raccomando vi ricordo prima di partire solo un attimo di cliccare sul tastino iscriviti se ancora non lo avete fatto iscrivetevi subito al nostro canale così non vi perdete ogni giorno nuovi episodi nuove dirette ogni giorno le diciannove e trenta tutti i contenuti esclusivi che andiamo a pubblicare veramente ogni giorno e le cronache delle partite eh della nostra inter quindi mi raccomando vi aspetto tra gli iscritti di passione inter detto questo direi di partire subito vi condivido lo schermo con il nostro software che utilizziamo per creare le formazioni in tempo reale insieme a voi facciamo così io partirò da quella che è l'inter di oggi ovvero come scenderebbe in campo oggi un inter composta da soli calciatori italiani senza però intervenire sul mercato quindi andando a pescare dei calciatori italiani che eh sono già a disposizione dell'inter diciamo così e quindi inevitabilmente in porta si bisogna schierare il nostro Alex Kordaz che è il terzo portiere rientrato all'inter dopo aver girato un po' eh l'Italia al centro della difesa andiamo a piazzare ovviamente Andrea Ranocchia che sta facendo bene in questa prima parte di stagione non fa rimpiangere i titolari quando è lui a scendere in campo per sostituirli e eh a sinistra andiamo a mettere sicuramente un titolarissimo che è Alessandro Bastoni ci sono pochi dubbi sulla sua titolarità così come un altro alternativa ai titolari molto affidabile è Danilo D'Ambrosio e se dobbiamo puntare su una difesa una squadra tutta italiana D'Ambrosio sicuramente si merita una menzione nella nostra squadra arrivando al centro campo sulla destra anche qui pochi dubbi Matteo D'Armian si merita assolutamente il posto da titolare così come a sinistra si sta conquistando sempre più spazio Federico Di Marco al centro eh possiamo schierare allora Nicola Barella senza dubbio titolarissimo ovviamente anche senza i vincoli di nazionalità al suo fianco ci mettiamo un Roberto Gagliardini che eh comunque rimane sempre un'arma importante nelle rotazioni per i vari allenatori che si sono susseguiti sulla panchina dell'Inter in queste ultime stagioni e davanti a loro e nella posizione di mezzala trequartista diciamo così Stefano Sensi con la solita variabile del l'asterisco sulle condizioni fisiche ovviamente la specifica è sempre quella se sta bene Stefano Sensi ho pochi dubbi che potrà avere possa avere un ruolo da grande protagonista nell'Inter ma anche in nazionale e quindi sicuramente in questa formazione nel nostro gioco di oggi lo andiamo a schierare dopodiché in attacco bisogna ricorrere un po' qui bisogna fare una piccola eccezione perché adesso l'Inter non ha giocatori eh diciamo a disposizione in attacco italiani nella rosa attuale e quindi andiamo ad inserire eh due giocatori di proprietà dell'Inter che però si trovano in presito partiamo da Andrea Pinamonti che sta facendo benissimo all'Empoli molti lo rivolrebbero già alla base per integrarlo fin da subito al pacchetto di attaccanti a disposizione di mister Inzaghi altri invece richiedono a gran voce Sebastiano Esposito che quindi andiamo ad inserire Esposito che al Basileo ha partito bene adesso sta avendo qualche problemino fisico però di sicuro è uno dei talenti più interessanti che ha l'Inter in circolazione e quindi lo andiamo ad inserire quindi in questo grande gioco che stiamo facendo ribadirò sempre la parola gioco ovviamente stiamo ci stiamo divertendo insieme non voglio assolutamente polemiche e commenti fuori tema in questo ipotetico gioco di calciatori solo italiani nella rosa dell'Inter titolari nell'Inter avremo una formazione composta ad oggi da Cordaz, D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni, Darmian sulla destra di Marco a sinistra, Barella, Gagliardini e Sensi a centrocampo, Pinamonti e Sebastiano Esposito a comporre la coppia d'attacco. Questa è quindi la formazione ad oggi. Dopodiché andiamo ad applicare una serie di correttivi nel senso che questa è una buona formazione secondo me non è una formazione sicuramente da buttare via anzi in una stagione secca secondo me potrebbe anche far abbastanza bene manca forse qualche gol soprattutto nei piedi dei due attaccanti però è una squadra anche abbastanza solida da questo punto di vista però è chiaro che io un Inter la sogno ad alti livelli la sogno ovviamente in grado di vincere in Italia e di far bene anche in Europa quindi andrò a fare una serie di correttivi basandomi sulle mie opinioni quindi farò delle scelte cercando di mantenermi all'interno di un budget sostenibile andrò a cercare di cambiare qualche tassello comunque senza spendere valanghe di milioni di euro cercando di cogliere delle opportunità spero che farete altrettanto anche voi quindi aspetto i vostri commenti per capire anche voi dove interverreste rispetto a questa formazione titolare quali giocatori cambiereste su chi puntereste per completare la rosa per rendere l'Inter ancora più forte in campionato ed in Europa mantenendo sempre il vincolo ovviamente della nazionalità italiana dei calciatori e ripeto per l'ennesima volta sono valutazioni puramente soggettive quindi poi voglio sapere anche le vostre facciamo questo gioco tutti insieme in quali reparti andrei ad intervenire io personalmente credo importa anche se Cordaz comunque a me sembra ancora oggi un portiere di buona affidabilità però io voglio creare una formazione anche progettuale che possa avere più anni a disposizione per poter crescere e svilupparsi e quindi andrei forse a cambiare con un portiere più giovane interverrei in difesa ridisegnerei ridisegnerei un po' la difesa per avere un po' di freschezza in più e quindi poter giocare tutta la stagione diciamo così senza troppi problemi farei forse un upgrade a centro campo compatibilmente con il nostro budget e cambierei sicuramente l'attacco questa è un po' la mia opinione quindi andiamo a ridisegnare la squadra partendo come detto dalla porta dove sapendo che forse andrò ad intervestire ad scusatemi ad investire più avanti mi affido a di Gregorio che è il portiere di proprietà dell'inter che si trova in prestito in serie B al Monza un classe novantasette a costo zero di fatto me lo riprendo lo metto lì e dopo aver conquistato la continuità in serie B gli cerco di fargli fare il salto anche in serie A e non spendo nulla per il momento tenendomi il budget più avanti la difesa la ridisegnerei senza però andare a spendere un patrimonio e vi spiego come farei bastoni l'opposizione centrale dove sono già iniziati gli esperimenti per cercare di capire se potrà evolversi in quel ruolo spero di sì anche perché così accanto a lui andrei ad inserire un altro talento di proprietà dell'inter che si trova in prestito al Monza ho sbagliato eccoci qua si tratta di Lorenzo Pirola giovane classe 2002 molto molto talentuoso deve ancora secondo me maturare completamente prima di poter fare il salto all'inter però in questo tipo di progetto secondo me ci sta bene poi dopo in panchina andiamo a mettere Ranocchi e D'Ambrosio che lo possono aiutare nel processo di crescita comunque costo zero perché sarebbe un rientro alla base ci sta benissimo così come per completare secondo me a quel punto si può cogliere l'opportunità Luis Felipe in scadenza di contratto con la Lazio considero lui perché come gli altri nomi che andremo a vedere dopo è un nome già in orbita inter l'inter lo sta seriamente considerando in vista della prossima stagione visto che molto probabilmente si libererà parametro zero dalla Lazio piace ad Inzaghi che lo conosce molto bene potrà ottenere la cittadinanza italiana quindi qui ho un po' barato però potrebbe anche giocare per la nazionalità italiana quindi lo considero dentro classe novantasette buon giocatore e per restare nei nostri parametri secondo me è un'occasione assolutamente da cogliere a centrocampo oggettivamente cambierei molto poco dal mio anno di Marco non vedo grossi upgrade senza investire molto così come non vedo molti calciatori più forti di Senza e Barella rispetto a Gagliardini che magari farei retrocedere a centrocampista di completamento andrei a fare il mio primo investimento pesante diciamo così perché io stravedo per Davide Frattesi prendo lui come mio nome come investimento a centrocampo ancora una volta perché è un altro nome sul quale l'inter sta lavorando concretamente quantomeno non si può parlare secondo me ancora di trattativa ma di interessamento e di monitoraggio costante sicuramente sì classe 99 è un centrocampista forte fisicamente bravo negli inserimenti ha anche credo un buon numero di gol come possibilità nell'evoluzione del suo ruolo è costato 5 milioni al sassuolo nel 2017 è al primo anno di serie A anche se sta facendo molto bene però è sempre il primo anno di serie A quindi dovrà confermarsi per questo penso che a meno di offerte di aste al rialzo con altri club con una quindicina di milioni forse riesci a a strapparlo al sassuolo anche se poi va considerato che la Roma dovrebbe avere secondo alcune indiscrezioni una percentuale sulla rivendita di di Frattesi quindi lì si rischia forse di alzare la valutazione cash i miei 15 milioni comunque su Frattesi per completare il centrocampo ce li investirei e comincia a diventare un centrocampo molto molto interessante questo qui chiudiamo con l'attacco io l'attacco come vi dicevo lo cambierei anche se Pinamonti non mi dispiace l'esposito in proiezione può diventare sicuramente interessante però vado a cogliere un'opportunità in questo contesto in cui non posso spendere molto e vado a puntare su Lorenzo Insigne come ho detto tante volte non è il prototipo del giocatore che mi fa sognare non è il mio giocatore preferito in questo momento però è un giocatore che secondo me dal punto di vista tecnico non si può discutere anche lui è in scadenza di contratto è un nome che l'Inter segue da tanto tempo che aveva tentato anche la scorsa estate in un contesto di sostenibilità e di dover rinforzare l'Inter puntando solo sui calciatori italiani in questo gioco che stiamo facendo per me è un colpo molto all'amarotta Lorenzo Insigne quindi sinceramente un'opportunità che andrei a cogliere per completare l'attacco poi andrei a fare il grande colpo il colpo più costoso di questa rosa lo farei con l'altro attaccante e io sinceramente ad oggi andrei a fare la grande scommessa Gianluca Scamacca andrei a fare la scommessa Scamacca perché è un classe 99 quindi anche lui molto giovane e poi dopo andremo a vedere un po' le varie età così ho mantenuto una squadra molto giovane credo che abbia le caratteristiche per integrarsi con questo tipo di formazione che abbiamo fatto qui ma soprattutto un giocatore che secondo me se si conferma a livello di testa e diciamo non svia dal percorso che il suo talento può fargli fare può essere l'attaccante del futuro della nostra nazionale ha ottimi colpi a grandi colpi secondo me ha un potenziale anche di un buonissimo numero di gol a stagione quindi accanto ad insigne ce lo metterei sicuramente un attaccante anche che ti può risolvere partite bloccate e quant'altro una valutazione al momento si parla attorno ai 20 25 milioni anche per questo è un profilo un calciatore che l'intra sta seguendo molto molto da vicino magari la butto lì fai un pacchetto unico frattesi Scamacca e a me personalmente non dispiacerebbe quindi eh il mio investimento davanti lo farei su Scamacca e completerei questa formazione come detto con Di Gregorio in porta Luis Felipe Bastoni e Pirola in difesa Darmiana a destra di Marco a sinistra centrocampo con Barella frattesi e Sensi in attacco Scamacca e eh Lorenzo Insigne colpi che credo si possano definire economicamente sostenibili senza andare a parlare di grandissimi nomi come il Donna Roma o il Federico Chiesa della situazione mi sono tenuto un po' più basso eh in panchina potresti avere giocatori come Cordaz come dicevo poi in difesa D'Ambrosio Ranocchia centrocampo Gaiardini poi magari Mulattieri che sta facendo eh benissimo in serie B o gli stessi Pinamonti Esposito di cui abbiamo parlato non è male non è male c'è un bel gruppone azzurro in quest'Inter e sarebbe secondo me questa eh una formazione sulla partita secca secondo me ce la giochiamo con chiunque con questa formazione qui che ho eh che ho schierato anche in campionato non la vedo malissimo sinceramente però soprattutto non la vedo male in prospettiva anzi è è una squadra anche molto molto giovane perché di fatto solo Insigne e Darmian avrebbero più di trent'anni gli altri sono tutti classe novantasette novantanove addirittura c'è Pirola duemiladue c'è eh novantacinque quindi formazione molto giovane un progetto tutto italiano molto futuribile neanche troppo distante dalle idee dell'Inter perché ripeto tutti i giocatori che abbiamo preso in considerazione sono giocatori che effettivamente l'Inter sta eh monitorando o trattando più o meno eh concretamente fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questa formazione che ho fatto io se vi piace cosa cambiereste se cambiereste qualcosa ovviamente voglio sapere nei commenti i vostri tasselli e i vari ruoli che andreste a toccare per renderla ancora più forte ancora più competitiva prima di salutarvi vi ricordo di fare un salto su passione inter punto club slash black friday stanno scadendo le ultimissime offerte sui prodotti sul club di passione inter mi raccomando vi aspettiamo all'interno del club di passione inter stiamo costruendo una community fantastica e questa era una delle richieste eh che ci arrivava anche dalla community del club di passione inter quindi approfittatene anche voi per entrare a far parte del club di passione inter trovate il merchandising di passione inter le offerte sui prodotti nike e sul merchandising natalizio se dovete fare dei regali o se dovete farvi dei regali mi raccomando passione inter punto club slash black friday trovate il link anche in descrizione a questo episodio se questo format vi è piaciuto mi raccomando fatemelo sapere così eventualmente ve lo riproporremo anche in altre in altri format simili se siete arrivati invece fino a questo punto dell'episodio ovviamente nei commenti aspetto non può essere altro che l'emoji con la bandiera italiana aspetto i vostri commenti e poi ovviamente ci vediamo nel club di passione inter grazie a tutti